L'avvocato Giuseppe Fiengo, amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, spiega attraverso il sito ufficiale che mancano ancora molte cose per il completamento del MOSE. Mancano impianti, alcuni collegamenti, dobbiamo controllare e valutare la sicurezza che è commisurata agli anni 90, spiega. È un'opera che sta in mezzo al mare, il più è fatto, si adegua gestendola, ma una cosa normale. La programmazione avviene con tempi molto lunghi e riguardo ai collaudi dell'opera ha puntualizzato che tutte le parti hanno avuto ognuna per conto suo un collaudo tecnico e amministrativo. E siccome l'opera era spezzettata, a questo punto c'è il problema di fare l'avviamento. Era ed è previsto che per tre anni si facciano dei piani provvisori di gestione e manutenzione e lì deve stare la commissione di collaudo. Sulle sue prescrizioni si mette a punto il piano di gestione, si aggiusta quel che si deve aggiustare. La logica è questa, spiega l'amministratore. Quello che era un investimento sul MOSE diventa una spesa corrente di gestione e manutenzione. Non serve un super studio, ha concluso Fiengo. I collaudi sono stati fatti tutti, tutti in corso d'opera.